Ad Avellino si mette in moto il nuovo piano urbanistico comunale, la giunta festa ha approvato le linee di indirizzo, entro giugno ci sarà l'ok definitivo. L'assessore, Emma Buondonno, assicura stop al cemento, puntiamo alla rigenerazione dell'esistente e apre alle associazioni di categorie e ai ordini professionali. Ma il presidente degli ingegneri, Vincenzo Zigarella, attacca. Finora non c'è stato alcun coinvolgimento, ci vedono come un fastidio. Non ha preso in considerazione gli ordini professionali, l'ordine degli ingegneri che rappresento, che poteva comunque dare un certo aiuto ad una programmazione. Veniamo visti proprio la categoria dei tecnici, degli ordini professionali, più come un fastidio che come un valore aggiunto per questa città. L'obiettivo è ristrutturare, riqualificare il patrimonio edilizio della città, non andare ad impegnare altri suoli e quindi creare nuova cementificazione. Utilizziamo quella che c'è, utilizziamo, riqualifichiamo quello che c'è. Il dibattito è aperto anche sugli edifici storici da riqualificare in primis la Dogana, su cui il comune, secondo Zigarella, ha già perso troppo tempo. Sicuramente la Dogana al momento rappresenta un buco nero della città di Avellino che non viene presa in considerazione oppure solo in determinati momenti l'amministrazione sulla Dogana non si sta esprimendo.